Noi vediamo sempre questo buon lunedì qui, buon lunedì, buon lunedì, è un buon live per tutti quanti. Noi siamo qui sempre a Ponticela, noi non vogliamo dirvi che quando avete i soldi vi dovete spedere tutto. Io non vi voglio dire Angela e noi cosa abbiamo, però la contentezza dentro io lo vorrei dire, però lei non me lo vuole far dire. Lei non mi dice cambiamo normalmente, ma perché? Cacciamo, cambiamo, spendiamo tutto, dai! Allora vi dico che nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo a me, la mia c'è un giudizio c'è un giudizio, ma io devo fare il mio, dillo da lei si faccia favore, ma ho bisogno di prendere il mio, dallo da questo, dallo da questo, e l'ho bisogno di prendere, che non ne vede anche il pistolo è fatto, non c'è un giudizio c'è un giudizio, non c'è un giudizio, non c'è un giudizio, non c'è un giudizio. Posso dirlo? Comunque abbiamo superato Non è 100 mila Perché 100 mila si è comprato la casa lì Abbiamo superato un bel budget per stare bene Non vuoi dire il giocattolino? Guarda il giocattolino, la faccio più bella più serena Ok Ma ci fatti affaticare stamattina Perché ci fatti affaticare Chissà una cosa Non voleva affaticare anche stamattina Guarda, mi fatti affaticare Ma sta stando Che caccavo pazza E quando volessi le soldi Baccia giù Viva la vincita Un biglietto c'è ora, c'è un biglietto C'è un po' lì Mi devi fare la sorpresa Perché io ho già valore di tutte Ma io dico mamma c'è E' lei che mi frena Perché io se sono me C'è tutte cose tutto Vengo nella provincia Ciao 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 milionaria Ciao 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 Ciao